Nasce l'associazione Pallabolisti Italiani, ma resta capito perché è importante? Per dare una voce ai giocatori, forza ai pibbi! Ciao ragazzi, giorno importantissimo oggi, oggi partiamo, dobbiamo essere tutti uniti, ma tanti dobbiamo essere, in tanti! Hai mon e l'unque! Ciao ragazzi, oggi iniziamo noi ma poi abbiamo bisogno anche di voi, mi raccomando! E poi ovviamente ci sono le donne, le sorelle di Giulio, cosa dire? Perché è importante questa giornata? Perché rappresentano tutti noi, siamo noi e finalmente siamo atteggiati nel nostro destino! E' importante perché? E' la nascita della nostra categoria! Indre, sono Gaide, perché è importante questa associazione finalmente? Non è importante, è fondamentale!